Il Covid ferma anche il tradizionale tuffo di Capodanno a Brindisi. Il primo gennaio 2020, nelle acque gelide del mare Adriatico, sulla costa nord, non potranno tuffarsi i temerari, sempre più numerosi, grandi e piccini, uomini e donne che per beneficenza sfidavano le onde gelide del mare d'inverno. Ad annunciarlo i gruppi che organizzano l'evento Summer Time e la società sportiva di Viareggio Escape Tuscany Triathlon. L'appuntamento è dunque rinviato al 2022, come spiega uno degli organizzatori. Abbiamo provato in tutti i modi a pensare a un'eventuale alternativa all'edizione ma ovviamente l'emergenza sanitaria ci impone di essere seri da questo punto di vista e soprattutto di fare attenzione nei confronti di quello che sta succedendo per cui di concerto col tuffo di Capodanno-Città di Viareggio abbiamo deciso di annulare l'evento per quest'anno e darci appuntamento al prossimo. Ovviamente non la ripromessa è quella per tutte quelle che sono le persone che sono collegate e sono affezionate al tuffo di fare un'edizione 2022 che sarà veramente indimenticabile. Siamo contenti anche di quanti hanno dal punto di vista anche internazionale chiesto se quest'anno ci sarebbe stata un'eventuale edizione ma noi ovviamente dobbiamo rispettare anche quelle che sono le norme e le direttive del governo e anche locali per cui dobbiamo tenerci a quello che è stato. Anche con la società Escape Tuscanitriatron abbiamo deciso insieme di fare questo passo per cui ci toccherà aspettare il Capodanno 2022.